Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come solvere l'errore riguardo all'errore 2e1003 quindi in questo caso c'è il launch di Epic Games che non è riuscito a scaricare i file di gioco per l'installazione quindi vai a scaricare e installare però non scarica niente quindi i file non vanno e quindi in questo caso bisogna solamente ripristinare Epic Games reinstallando Epic Games e eliminando le cache di Epic Games quindi in questo caso andiamo direttamente a chiudere Epic Games andiamo direttamente nella sua cartella quindi in questo caso tasto Windows più R per aprire così la schedina esegui oppure puoi aprirla direttamente qua scrivendo esegui qui sopra scrivi percento app data percento facciamo ok andiamo su app data facciamo su local scendi fino a giù fino a trovare così le cartelle di Epic Games Launcher ovviamente ci dicono di entrare nella cartella di Epic Games andare su save config web cache cancellare tutte queste cache ovviamente se noi andiamo a cancellare solo la cartella di Epic Games Launcher dobbiamo rifare l'accesso quindi dobbiamo rifare di nuovo il login per il nostro account quindi noi possiamo direttamente cancellare la web cache cancelli web cache torniamo indietro facciamo rimanere così la cartella Epic Games Launcher così com'è chiudiamo un attimo questa e passiamo direttamente ai prossimi passaggi ed eccolo qua una volta fatto andiamo direttamente su cmd quindi cmd esegui come amministratore andiamo a scrivere sfc spazio slash scanno sfc spazio slash scanno e fa invio aspettiamo così l'analisi del sistema per verificare per vedere se ci sono degli errori quindi non ci resta che aspettare intanto che fa la procedura perché una volta arrivato al 100% dobbiamo riavviare il sistema quindi vai qua sopra e riavvi il sistema passiamo ora direttamente ai problemi DNS riguardo anche a questo errore che non riesce a scaricare e installare driver quindi cambia i tuoi server DNS quindi per cambiare questi server DNS dobbiamo solamente andare sulla nostra rete tasto destro sopra sulla rete impostazioni rete e internet impostazioni di rete avanzate andiamo sulla nostra rete io uso Ethernet uso questa qua faccio un'altra opzione schede e faccio modifica prendo così la proprietà Ethernet ci clicco su proprietà Ethernet versione 4TCP IPv4 questa qua ci clicco sopra utilizza i seguenti indirizzi server DNS io mi trovo una meraviglia con questi qua 1.1.1.1.1 e poi quello sotto è 1.0.0.1 però Epic Games ci consiglia di inserire direttamente gli altri server sinceramente i server che ho impostato io sono meglio di quelli che ci consiglia Epic quelli di 8 tutti 8 e poi c'è 8 8 4 e 4 per inserirli basta solamente prendi questi 4 8 e li metti qua oppure prendi questi 2 8 e 4 e li metti qua sotto e fai ok utilizza i seguenti indirizzi server DNS però ti consiglio di inserire questi qua che sono meglio e fai ok e chiudi tutto se non dovesse funzionare poi qua sta ancora facendo la scansione quindi se non dovesse funzionare quello che ti consiglio di fare è disinstallare Epic Games e reinstallare Epic Games oppure se il gioco non riesce a scaricare i suoi file vai sui tre puntini e fai la verifica adesso non ci resta che andare su Epic Games oppure può essere per i servizi oppure può essere per i servizi quindi andiamo sui servizi eccolo qua andiamo fino a giù fino a trovare Epic Online Service questo qua ci clicchiamo sopra facciamo manuale facciamo avvia e fai applica e fai ok andiamo nella nostra libreria se tu stai scaricando e installando i file richiesti per il gioco però non te li fa scaricare e installare vai sui tre puntini qua su gestisci e fai la verifica al gioco se non dovesse funzionare ancora sempre sui tre puntini andiamo su gestisci andiamo nella sua cartella andiamo nel gioco di Fortnite Game in 64 ed eccoli qua cancelli direttamente le applicazioni del gioco una volta cancellate chiudi qua e fai la verifica al gioco ritorneranno quelle applicazioni più nuove e hai anche ripristinato il gioco al posto di disinstallare Epic Games protezione risorse di Windows nessuna violazione di integrità trovata nessun problema quindi chiudiamo qua e riavvi il tuo sistema se hai altri problemi nella mancanza di installare e scaricare i file richiesti per il gioco perché Epic Games non risponde commenta sotto al video se ti è stato utilissimo iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao